E' definitivo ormai il bilancio, sono 29 le vittime recuperate dai soccorritori tra le macerie e la neve dell'hotel Rigopiano. Gli ultimi due corpi sono stati estratti poco prima della mezzanotte di mercoledì 25, ad una settimana esatta dalla Slavina. Diversi locali dove si trovavano le vittime e nella hall, dove secondo le testimonianze Roberto Del Rosso, proprietario del resort, aveva fatto raccogliere gli ospiti dopo le scosse di terremoto, in attesa dell'arrivo dello spazzaneve per poter liberare la strada e permettere a tutti di ripartire. E poco più in là, nel bar, nella sala biliardo, nella cucina, hanno scavato senza sosta i soccorritori cercando di muoversi nella maniera più veloce possibile. Secondo le prime sei autopsie effettuate dal medico legale e rese note dal procuratore che conduce l'inchiesta sul disastro colposo e l'omicidio plurimo colposo, le morti sarebbero avvenuti per concause, schiacciamento, asfissia, ipotermia. A salvarsi 11 delle 40 persone presenti, Gian Piero Parete, il cuoco che ha chiesto soccorso al suo datore di lavoro, Quintino Marcella, colui che ha fatto partire la denuncia sul ritardo dei soccorsi, poiché non preso sul serio, la moglie di Parete Adriana e due piccoli, Ludovica e Gianfilippo, a salvarsi anche il piccolo Samuel di Michelangelo, il figlio della coppia di Osimo, Edoardo Di Carlo, di 10 anni, rimasto anche lui orfano di padre e madre, di cui funerali si sono svolti ieri a Loretta Prutino, Fabio Salsetta, il tuttofare dell'hotel, che nonostante la sua presenza ininterrotta alle ricerche, ha scoperto che tra le vittime c'era anche sua sorella Linda. La coppia di Giulia Nova, i fidanzatini Giorgia Galassi e Vincenzo Forti, che ieri, per la prima volta dopo il salvataggio, hanno voluto incontrare la stampa per raccontare quelle terribili ore fino all'arrivo dei soccorsi e hanno rivolto le condoglianze a tutti i familiari delle vittime. Francesca Bronzi, pescarese, salvata venerdì insieme agli altri due ragazzi e che purtroppo, dopo una falsa notizia sul salvataggio del suo fidanzato, Stefano Feniello, ha scoperto di averlo perso per sempre. Falsa notizia che ha scatenato la rabbia del padre Alessio. E infine Gianpaolo Matrone, il giovane di Monterotondo, unico a necessitare di un intervento chirurgico per lo schiacciamento subito ad un braccio, è salvo ma ha scoperto di aver perso la sua compagna Valentina Cicioni. Un bilancio dolorosissimo quello delle vittime che per una settimana ha tenuto parenti e amici in attesa di notizie all'ospedale di Pescara. Ospedale dove oggi invece si attende l'autopsia dei propri cari che si sta svolgendo a Chieti poiché, come spiegato dal procuratore Cristina Tedeschini, necessaria per le indagini in corso. Tante erano state infatti le richieste delle famiglie verso la magistratura di poter riavere i corpi senza sottoporli all'esame. Una lunga pagina di dolore che ancora non si è conclusa e che adesso apre il capitolo indagini per verificare responsabilità e dinamiche della tragedia. Dalle comunicazioni diramate dal servizio Meteomont circa il rischio di valanga a Rigopiano, mai ricevuto dal comune di Farindola, alla costruzione del resort sul canalone del Montesiella, al piano neve della provincia di Pescara, alle conversazioni telefoniche intercorse tra il professor Marcella e la prefettura di Pescara e successivamente gli altri numeri di soccorso, i fax inviati dal proprietario del Rigopiano alla provincia per chiedere intervento dei mezzi di spazzamento, alle conversazioni degli ospiti con i propri familiari per palesare la situazione a Rigopiano. Ancora nessun indagato nel registro, ma come ha spiegato il procuratore Tedeschini, un'analisi approfondita di tutti i documenti utili ad accertare il reale svolgimento dei fatti.